chi è divertimento insieme? è un gruppo di musicisti e dove suonano? in italia e nel mondo hanno suonato anche alla scala in trent'anni hanno fatto più di mille concerti e hanno inciso molti cd ma se sono così seri noi cosa ci facciamo con loro? musica ma senza libri vi faranno scoprire suoni e rumori misteriosi che si possono produrre sia con i vecchi strumenti musicali sia con oggetti che normalmente servono a tutt'altro e possiamo farli anche noi? certo e potrete sperimentare anche la voce ma cantare noi lo sappiamo già cos'è e che cosa cantiamo se poi non sappiamo le note? non occorre saperle state tranquilli e poi con la voce si può fare molto di più che cantare melodie vedrete e facciamo anche il concerto? certo conoscerete i musicisti i compositori lavorerete con loro imparerete un sacco di cose e potrete fare un mucchio di domande allora giochiamo al divertimento insieme? sì si può dire anche così e perché vogliono i bambini? perché per loro la musica è cosa viva non una materia di scuola è un'esperienza che fa provare emozioni stuzzica idee allora lo posso dire anche ai miei compagni di classe? certo anche ai bambini delle altre classi a tutta la scuola a giocare la musica possono partecipare proprio tutti giocare la musica!